un saluto a tutti i lettori di readball.com oggi video recensione per Kobo Aura H2O si tratta dell'ultimo ebook reader prodotto da Kobo questa azienda con base a Toronto acquistata da qualche anno dalla Rakuten un'azienda giapponese è un ebook reader che avevo avuto modo di provare in maniera molto rapida all'IFA di Berlino di quest'anno un ebook reader che mi ha colpito per molte particolarità in primis l'imperameabilità quindi anche la resistenza alla sabbia la polvere eccetera molto bello anche lo schermo particolare anche il design ma prima di andare a parlare più dettagliatamente di questo device ci terrei a dire due parole su ebook reader e su ebook in generale perché perché come spesso succede quando sto provando un prodotto che mi piace molto ne parlo spesso con amici e con conoscenti e mi sono reso conto in questo caso che l'universo è reader l'universo degli ebook molto spesso non è conosciuto o meglio molti sanno che esistono questi device questi terminali ma non ne conoscono le peculiarità non sanno quali differenze magari hanno a livello tecnico rispetto ai tablet o ad altri ad altri device portatili e non sanno veramente bene con quali finalità vengono progettati molto in breve un ebook reader è appunto un prodotto nato pensato e costruito per permettere un'esperienza di lettura molto simile a quella che si ha con i libri normali per fare questo gli ebook reader adottano generalmente un tipo di display che viene chiamato display a inchiostro elettronico che è in grado di rendere ultimamente anche molto bene l'idea di essere l'idea che sia leggendo la carta stampata normale per fare questo utilizzo una tecnologia che non ha bisogno di retroilluminazione quindi non affatico alla vista e che oltretutto permette una buona resa con un dispegno energetico molto basso quindi si hanno sugli ebook reader delle batterie dall'amperaggio molto molto inferiore rispetto magari a un tablet o anche solo uno smartphone ma che poi ai fini pratici garantiscono un'ottima autonomia di lettura fino a poco tempo fa il mercato era dominato da Kindle ancora adesso Kindle è il principale esponente il principale competitor su questo mercato però devo dire che sono nate e stanno crescendo diverse aziende che stanno entrando in questo in questo ambito Kobo è una di quelle che seguo da più tempo una di quelle su cui ripongo la maggior fiducia perché ci ha abituato soprattutto nell'ultimo periodo a prodotti dalla qualità davvero davvero buona come appunto quindi torniamo all'oggetto della nostra recensione la qualità è davvero buona in questo Kobo Aura H2O partiamo parlando del design allora vabbè frontalmente il design è molto semplice abbastanza classico per quel che riguarda questi device quindi un rettangolo con i bordi arrotondati la situazione cambia invece guardando il retro perché abbiamo questa questa parte posteriore asimmetrica con questo particolare effetto 3d che oltre appunto a essere esteticamente molto piacevole migliora nettamente la maneggevolezza di questo dispositivo maneggevolezza che è oltretutto migliorata da il nuovo rivestimento gommato che troviamo per quel che riguarda i tasti fisici ne abbiamo uno soltanto sulla parte superiore che serve per accendere spegnere il dispositivo o per mandare in stand by lo schermo il dispositivo stesso nella parte inferiore abbiamo un piccolo sportellino che andando ad aprire ci mostra l'entrata per la micro usb è uno zolotte per micro sd per espandere la memoria che è di 4 gigabyte interna ma che può essere quindi ampliata fino a 32 gigabyte tramite micro sd questo sportellino non è una questione veramente estetica per per fare sì che tutti i bordi siano a filo ma ha una funzione molto più pratica che è appunto quella di garantire l'impermeabilità di questo prodotto se non mi sbaglio lo standard di impermeabilità in questo caso è l'ip 67 che vuol dire poi che questo prodotto è garantito fino a 30 minuti sotto un metro d'acqua parlando in termini pratici lo potete portare nella vasca da bagno io l'ho fatto ci ho letto tranquillamente potete appoggiarlo in giro in giardino ma anche sulla tavola da pranzo ma anche portarlo in spiaggia senza più la paura che ci entri la sabbia che si rovini con l'acqua che ci si versi sopra qualcosa che che lo vada a rovinare altra peculiarità del design forse i più attenti di voi l'avranno già notato è abbastanza abbastanza grande rispetto ai classici book reader troviamo uno schermo che non è più da 6 pollici ma da 6,7 questo vuol dire che quindi le dimensioni generali sono aumentate ma devo dire la verità grazie un po' a questa appunto retro dalla forma particolare molto molto ergonomica un po' alle cornici ampie che quindi permettono una buona presa e un po' al rivestimento gommato l'utilizzo a una mano non ne ha risentito molto almeno io non ho avuto problemi non ho le mani neanche tanto grandi quindi non è una cosa solo mia io non ho avuto problemi ad usarlo anche per lunghe sessioni di lettura senza stancarmi senza riscontrare particolari particolari problemi appunto nell'utilizzo con una mano sola unico difetto da questo punto di vista certo non è non è il più compatto degli ebook reader se cercate la massima portabilità la massima compattezza forse non è proprio il device che fa al caso vostro ma posso assicurarvi comunque non è molto scomodo unica nota di demerito di questa superficie gommata è il fatto che trattenga molto facilmente probabilmente già se ne vedono alcune in questa video recensione trattenga molto facilmente le impronte lo sporco da quel punto di vista ci torna di nuovo comoda l'impermeabilità perché grazie alla superficie impermeabile del dispositivo possiamo proprio così semplicemente prenderlo dargli una lavata e torna e torna di nuovo pulito passando al display troviamo forse la più grossa novità del display del di questo e reader per quanto riguarda cobo la famiglia di cobo ed è l'introduzione delle inc carta che la nuova tecnologia sviluppata appunto da inc che permette una resa veramente veramente buona velocissima digressione di nuovo su come funzionano i display inc faccio una spiegazione veramente veramente molto basilare mi scuso già se qualche cosa di più tecnico sarà sbagliato cerco proprio di ridurre al minimo questa questa spiegazione immaginate come se ogni pixel fosse composto da una piccola pallina che ha un lato nero e un lato bianco per comporre le parole semplicemente viene mandato un impulso a queste palline di questo impulso dice a questi pixel a queste sfere come configurarsi se girarsi dal lato bianco o dal lato nero così facendo vengono visualizzate le parole quindi non c'è bisogno di retroilluminazione l'energia che viene utilizzata viene utilizzata solo nel momento in cui viene dato l'impulso non poi per tutto il resto del tempo quindi il display non viene aggiornato come i normali monitor di smartphone e tablet o di televisioni che vengono che hanno un refresh decine di volte in un solo secondo no in questo caso no quindi il risparmio energetico è molto alto la resa come dicevamo fino a qualche tempo fa questo tipo di dispositivi soffrivano di una risoluzione abbastanza bassa e di un problema legato al fatto che per funzionare al meglio avessero bisogno di eseguire un refresh completo dello schermo quindi una schermata completamente nera ogni poche pagine grazie alla nuova tecnologia è in carta la nuova tecnologia è in regal mi pare questa cosa non avviene più la risoluzione è molto alta parliamo di 265 punti per pollice quindi 1430 per 1080 pixel su questo schermo da 6,8 pollici una cosa che veramente fa apprezzare questo schermo è l'elevato contrasto perché la differenza adesso molto netta il contrasto molto netto fra il nero delle lettere e il chiaro il bianco dello sfondo rendono veramente l'impressione di leggere su carta è veramente veramente bello molto bello anche il sistema di illuminazione che su Kobo funzionava già molto bene funziona molto bene anche qui abbiamo dei punti luce disposti sulla cornice che tramite una particolare pellicola applicata sopra lo schermo la luce di questi punti di questi led viene distribuita uniformemente su tutto lo schermo e quando dico uniformemente intendo dire veramente in maniera molto uniforme non abbiamo più problemi che si notavano su altri dispositivi di questo genere in cui magari delle zone avevano una luminosità maggiore rispetto a delle altre ultima particolarità il touchscreen la tecnologia touch che viene utilizzata su questo display ma come sulla maggior parte dei display Kobo è una tecnologia a infrarosso ha lo svantaggio di non essere multitouch come gli schermi capacitivi quindi non c'è nativamente il pinch to zoom ha il vantaggio di permetterci di schiacciare e di far riconoscere al dispositivo il tocco anche con i guanti ma anche che ne so con la biro per esempio mentre stiamo prendendo appunti e abbiamo il display in una mano la biro nell'altra possiamo utilizzare direttamente il retro della biro schiacciare lui riconosce il tocco e gira pagina per il resto dell'hardware bisogna dire prima di tutto che confrontare l'hardware di un ebook reader con magari l'hardware di un tablet o di un cellulare è una cosa che per chi non conosce questo mondo magari potrebbe venire spontanea ma è meglio non fare perché le finalità di uso di un ebook reader sono molto diverse da quelle di un tablet perché un tablet o uno smartphone nascono ormai con l'idea di dover fare molte cose, svolgere molte funzioni avere bisogno di grosse potenze di calcolo perché hanno tante applicazioni da far girare molto diverse fra loro anche graficamente molto complicate è il che necessita appunto di un'hardware molto potente in questo caso negli ebook reader non abbiamo bisogno di tutta questa potenza di calcolo su questo Kobo troviamo un processore freescale da 1 GHz mi pare di frequenza di clock e 512 MB di memoria RAM coadiuvati dai 4 GB di memoria interna espandibili fino a 32 come mi pare dicevamo prima che sono più che sufficienti per garantire un'ottima fluidità di navigazione fra le pagine e un ottimo utilizzo vabbè a completare il comparator dove abbiamo la connettività wifi che ci permette di sincronizzare il nostro lettore con il nostro account quindi di scaricare i libri che magari abbiamo comprato tramite computer eccetera il wifi è utile anche per viaggiare nello store abbiamo una batteria che penso sia la stessa che c'era sul Kobo Aura HD che comunque dai dati del produttore arriva a durare fino a due mesi certo sono dati intesi così e sono specificati nella scheda tecnica puoi leggerci fino a due mesi se tieni sempre il wifi staccato e leggi mezz'ora al giorno che è un utilizzo abbastanza normale anche per un dispositivo del genere io ho letto diverse ore forse una decina una dozzina di ore su questo dispositivo non è arrivato penso se non mi sbaglio neanche a metà della batteria tenendo il wifi spesso acceso e utilizzando molto la luminosità che tra l'altro qui si regola semplicemente andando a eseguire uno swipe andando a strusciare il dito su questo lato dello schermo altre cose da dire a livello hardware molto importanti non ce ne sono invece ce ne sono diverse da dire a livello di software perché? perché è apprezzabile e molto bella la home screen di questo lettore di questo Kobo perché ci permette di avere più o meno tutte le cose fondamentali o comunque tutte le cose che usiamo di più sempre a portata di mano meno apprezzabile perché è più complicato il resto del menu perché alcune opzioni sono difficili da raggiungere sono in punti scomodi e lo store è ancora troppo confusionario soprattutto se è rapportato a quello dei Kindle che sono molto più semplici per questo che molto spesso gli utenti che per le prime volte vanno a comprare un dispositivo del genere soprattutto se non sono particolarmente esperti di tecnologia si sentono suggerire un Kindle perché ancora dal punto di vista dello store e della navigazione nei menu interni il Kindle ha una maggiore semplicità nell'uso non dico che Kobo sia difficile o complicato da utilizzare dico che semplificando bene come è stato fatto nell'home screen anche le altre funzioni avremmo potuto ottenere un risultato migliore comunque passando alla lettura dei file testuali come gli EPUB abbiamo diverse funzioni molto interessanti tra le quali per esempio un'enorme personalizzazione dei caratteri che possiamo scegliere fra 11 font diversi possiamo scegliere margini interlinea possiamo scegliere grandezza di ogni singolo font possiamo andare a impostare lo spessore praticamente ce n'è per tutti i gusti ed è un ottimo lavoro svolto da questo punto di vista da Kobo molto interessante il fatto che tenendo premuto su una parola si apra immediatamente il dizionario che ce ne dà il significato grazie appunto al fatto che è integrato un dizionario su Kobo tenendo premuto questa parola o comunque una parte di test si può evidenziare una frase, più parole si possono andare a ricercare su Wikipedia o su Google perché c'è un browser integrato che per carità non è niente di eccezionale per navigare nel senso che non è e si vede un dispositivo nato per navigare su internet però torna utile oltretutto si possono anche andare a cercare queste parole all'interno del testo stesso o si possono condividere sui social network collegando i propri account a Kobo un po' diverso la situazione quando si va a parlare di PDF perché la gestione di PDF non è ancora ottimale ma come non lo è sulla maggior parte di ebook reader nel senso che quando parliamo di PDF molto grandi o con molte immagini gli ebook reader fanno ancora difficoltà ma questo è dovuto principalmente alla tipologia di display che comunque dovendo navigare all'interno di un PDF ha bisogno quando si fa lo zoom di poi fare il refresh dello schermo molto più spesso di come succede invece leggendo un libro svoltando pagina ogni tot secondi dopo averla letta tutta quindi è ancora un po' complicato c'è da dire che va abbastanza bene per la lettura di fumetti dalle dimensioni ridotte perché 6,8 pollici vanno bene magari i manga per esempio o i bonelli si leggono abbastanza bene un po' meno bene gli albi anche i comic americani perché hanno dimensioni più grandi delle pagine piacevole il fatto che come abbiamo già visto anche sul modello precedente il sistema tenga traccia dello zoom quindi cambiando pagina si ritrovi lo zoom il livello di zoom che avevamo trovato e si può cambiare pagina anche con lo zoom attivo purtroppo non mantiene la traccia di dove avevamo posizionato lo zoom che potrebbe essere una funzione da integrare magari in futuro perché potrebbe tornare molto comoda concludendo questo discorso su Kobo Aura H2O posso dire che è un dispositivo che mi è piaciuto molto bisogna sempre pensare che quando si parla di ebook reader molti vanno per esempio a dire leggere su ebook reader vuol dire escludere magari la lettura su libri normali non è così io e tanti conoscenti e tanti amici che ho hanno una libreria di titoli invidiabile però molti altri titoli preferiscono averli su ebook reader per la comodità di poterlo portare in giro con un peso leggerissimo avere tantissimi libri vuoi un po' perché si spende di meno a comprare gli ebook che a comprare i libri normali vuoi un po' perché in certe situazioni è molto meglio poter leggere su ebook reader perché per esempio l'esperienza di lettura di un ebook reader dal punto di vista della possibilità di adattare il carattere non può essere replicata su un libro quindi se su carta stampata un testo ha un carattere piccolo e magari non particolarmente comodo ostico per gli occhi rimane quello su ebook reader come abbiamo visto possiamo andare a personalizzare queste impostazioni insomma non è detto che ebook reader escluda libri normali e che libri normali escludano ebook reader e reader se state cercando un e-reader è il primo e-reader che comprate nonostante il fatto che magari lo store non è particolarmente semplice per il menu ci vuole un po' più di tempo mi sento per il momento comunque di consigliarvi Kobo Aura H2O perché il livello raggiunto da questo schermo è veramente veramente alto e l'esperienza di lettura è veramente buona c'è da dire che il prezzo anche è alto perché parliamo di 179 euro in Italia e non è poco per un e-book reader perché comunque è un prezzo abbastanza alto per la categoria c'è da dire che Kindle e Amazon ha annunciato una nuova serie di Kindle che sembrano molto interessanti posso capire che chi possiede già un e-book reader magari voglia aspettare ancora di vedere il confronto fra Amazon e Kobo e decide in futuro però se magari il vostro e-book reader un po' vi è stancato e magari iniziate a soffrire un po' perché l'esperienza che vi garantisce non è più così buona e così bella come magari vi sembrava all'inizio perché era una novità allora il mio consiglio è comunque quello di investire su questo Kobo Aura H2O perché nonostante tutto nonostante quello che lancerà Kindle nonostante il resto si tratta di un prodotto dall'alta qualità di cui dubito altamente che potreste poi pentirvi in seguito per Readball.com Gianluca Cirignano Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie.